Mi piaceva l'idea di rispondere un attimo al Signore sui 40 anni, sulla esperienza che poteva iniziare verso i 40 anni, perfetto. Proprio rimanendo su Carl Gustav Jung, a un certo punto della sua vita, negli anni venti circa, stabilì questo processo di individuazione del sé. Ora, il sé è un qualcosa di abbastanza difficile da riassumere in pochi minuti, però fa parte di una serie di istanze interiori che ci aiutano ad esprimerci, a esprimerci nel mondo, a capire chi siamo prima di tutto, altrimenti non ci si esprime. Il percorso di individuazione per Jung nasceva in una persona in modo del tutto consapevole proprio intorno ai 40 anni di età, quindi era da lì che si partiva per... naturalmente lui si riferiva a se stesso, però questa cosa se ci pensiamo un po' risuona, perché magari tanti elementi hanno bisogno veramente di crescere in noi, di prendere il dovuto spazio, di rimanere anche un pochino statici per poi esprimersi davvero per come sono. Quindi, da questo punto di vista, il detto non è mai troppo tardi è qualcosa che assume anche una rilevanza non banale. Mi ricollego anche a quello che ha detto prima la dottoressa Poli, perché ha rievocato qualcosa che secondo me è estremamente importante, e cioè il potenziale proprio evocativo dei termini e delle parole. Abbiamo visto che possono nascere delle poesie da una sequenza di immagini. Il mio intervento di oggi voleva essere anche un po' su questo, visto che a volte mi affeziono anche un po' troppo alle parole, perché ne sento un po' il peso, perché se si lasciano giacere le parole, se si lascia loro il tempo di venire fuori con il loro significato, portano molto di più di quello che è il semplice suono, di quello che è l'uso comune che ne facciamo. Quindi far giacere le parole, sentirle, ascoltarle, indagare anche il significato più profondo che hanno, può aprire dei mondi. Quello che abbiamo fatto prima non è un caso, sono nate delle vere e proprie poesie che ho ascoltato con piacere, e che soprattutto dicevano tanto delle persone che avevano sentito quelle parole, perché per una volta le avevamo sentite. Inizia proprio così anche il libro, inizia con un capitolo che ha per prime le parole fisionomia della relazione. E' chiaro che fisionomia e relazione sono due parole molto importanti per me, se l'ho voluta mettere proprio all'inizio, però richiamano anche un po' l'argomento che oggi volevo trattare con voi, e sul quale volevo fare anche un piccolo intervento esperienziale, chiaramente nel tempo concesso, come un piccolo laboratorio. Cosa succede? Che già la parola fisionomia, poi accosterò una terza definizione a queste due parole, ma partiamo dalla prima, fisionomia, dentro intanto all'anima di due parole greche importanti, nel prefisso e nel suffisso, c'è physis, che è la natura, e c'è gnome, che è la cognizione. Quindi, quando le accostiamo queste due parole, le facciamo diventare una parola unica, fisionomia ci parla di un sapere, comprendere, capire com'è fatta la natura di qualcosa. Quindi, già assumono un significato un po' più grave, grave in senso positivo naturalmente, del significato che siamo chiamati tutti i giorni a dare, usandola così gergalmente. Proprio anche nella parola relazione, che deriva dal verbo referre, e che quindi ha a che vedere con riferirsi a qualcuno, creare un legame poi nella concezione più moderna, ma che era ben nota anche agli antichi, è chiaro che questa fisionomia, questa fattezza, questo conoscere le cose per come sono, viene accostata a un tipo di legame, cioè conoscere il legame. La fisionomia ha fatto parte anche della psicologia antica, perché faccio questa divisione psicologia antica e moderna, anche se non mi piace per niente, la psicologia moderna è considerata quella scientifica, e anche queste due cose insieme mi fanno abbastanza intecherire, perché come si dice, perché non esiste scientificità coatta in qualcosa che già parla da solo, e che parla da solo da sempre, come la scienza che in qualche modo cerca di portare a nudo le caratteristiche della mente. La fisionomica nel XVI secolo era una tecnica psicologica con cui Lombroso, che poi era un medico, un filosofo, un sociologo del tempo, studiava, si proponeva di studiare le caratteristiche delle persone, cioè lui partiva dalle fattezze del volto, dalle modalità espressive, e cercava di ricondurre queste fattezze a ciò che le persone effettivamente erano, quindi questa conoscenza della natura può portare tanto, ci può portare tanto, accostata alla relazione, ci può portare ancora di più, ma io voglio arricchire queste due parole con una definizione che è quella di realtà psichica e mi piacerebbe chiedervi proprio subito, secondo voi, che cosa è la realtà psichica, dov'è che si trova la realtà psichica, come si manifesta? Allora, si specchia nella nostra vita, cioè la nostra realtà psichica fondamentalmente prende parte ai processi della vita, dico bene? È una cosa introspettiva, una percezione del pensiero di quello che siamo? Sicuramente sì, tutte e due le cose. Realtà psichica è, prima di tutto, una realtà, quindi è qualcosa che non ha niente a che invidiare con la realtà esperibile. È certo che prende parte alla nostra vita più intima, ma che si rispecchia anche in tutto quello che facciamo, sono vere tutte e due le cose. In realtà, questo che, l'essenza della realtà psichica è qualcosa che sarebbe bene che noi cominciassimo a pensare che ci appartiene allo stesso modo di tutte le realtà fisiche che siamo chiamati a sentire ogni giorno, a esperire ogni giorno. Ci sono addirittura, io ho visto a volte dei film di fantascienza, dove si parla di realtà psichica, perché magari si fa vedere come collegando un macchinario futuristico alla mente, al cervello, si possa riuscire a fare un viaggio senza muovere un passo, oppure si possa riuscire a fare un'esperienza in pochi secondi e ricordarla come un'esperienza di 5-10 anni. Certo, questo nella nostra realtà fantascientifica può funzionare, perché no? La percezione è quella di aver vissuto qualcosa di vero, però non c'è bisogno di andare nella fantascienza, per ritrovare la realtà psichica. La realtà psichica ce l'abbiamo, ci viviamo tutti i giorni nella realtà psichica. Abbiamo la possibilità di farlo lo stesso quel viaggio, magari è un pochino più difficile, magari ci vuole un po' più di concentrazione, ma quel viaggio prima o poi lo facciamo. Quindi andiamo al ritroso invece che in avanti, no? Pensiamo a qualcosa che faceva Freud, quindi si va proprio alle origini della psicologia. Perché Freud interpretava i sogni? cosa pensava che ci fosse nei sogni che non c'era già nel quotidiano delle persone? D'altra parte lui scrisse anche Psicopatologia della vita quotidiana, quindi pensava che ci fosse qualcosa anche nel quotidiano, ma nei sogni cosa ci poteva essere di più alla fine? C'era una realtà psichica, una specie di valvola, una valvola a pressione che fa passare degli elementi che altrimenti non sarebbero potuti venire fuori, no? dal cosiddetto inconscio, d'altra parte le formulazioni su questa istanza l'inconscio le fece proprio Freud, ma la realtà psichica che c'era dentro lui la considerava, ed è questo il nucleo, lui la considerava alla stregua della realtà di vita della persona che aveva davanti, ma perché lo era? Non siamo meno vivi nel sogno o nella fantasia o nel viaggio dell'immaginario di quanto siamo vivi nella realtà attuale, è per questo che quando si va ad accostare, si vanno ad accostare questi tre termini, ovvero fisionomia della relazione e ci facciamo aiutare dalla realtà psichica, viene fuori un risultato alchemico che ci fa pensare a una relazione che prende vita, a una relazione che ha una fisionomia che può essere concepita per com'è, conosciuta per com'è e che quindi a un certo punto nasce come una realtà mesmerica, mi rifaccio un po' ai concetti di mesmer del 1700, che questo medico tedesco che vedeva un fluido, un fluido proprio fra le cose, ora lui lo chiamava fluido magnetico, comunque vedeva qualcosa che di fatto era invisibile, la relazione è invisibile, la relazione è invisibile ma non per questo è meno reale degli esseri viventi che la stipulano e quindi è qui che diventa, è qui che mi sono sentito di prendere come brogliaccio proprio la vita di Jung per capire qualcosa che non stava scritto nei suoi racconti biografici ma stava scritto nelle sue vicende di vita anche perché Jung venne preso da vecchio abbastanza vecchio e gli venne chiesto di fare questa opera autobiografica che in qualche modo veniva trascritta da una giornalista lui lo fece lo fece lo fece perché era obbligato un po' dagli eventi già diciamo alla fine della sua vita era considerato un po' una celebrità e aveva da fare delle cose un po' in modo coatto perché aveva addirittura la casa infestata dai curiosi che cercavano di capire che cosa facesse nel tempo libero era diventato non lo so una specie di asceta che doveva essere seguita a tutti i costi lui accettò di fare la biografia e con quella mise fine a tutta questa richiesta che aveva dal mondo esterno ma come mise fine? semplicemente scrivendo una cosa che sicuramente sentiva perché poi comunque era una persona molto coerente ma che mancava di tanti elementi nell'elemento della relazione cioè in come lui ha stipulato e vissuto le relazioni così come in tanti altri ambiti stanno degli insegnamenti lasciatemelo dire segreti di Jung quelli che tutti cercavano ma che magari non vedevano perché Jung era lo psicanalista dell'inconscio profondo e quindi doveva essere visto in questa dimensione intrapersonale e non interpersonale ma lui raccontò tanto di sé e delle sue modalità spesso e volentieri in effetti illuminate anche per come stipulava le relazioni quindi che cosa succede quando noi facendo riferimento alla nostra realtà psichica prendiamo una relazione e vogliamo in qualche modo dotarla di una fisionomia facciamo un qualcosa che è concesso prima di tutto agli dei ovvero compiamo un atto generativo la generazione non è solo il concepimento di una nuova vita è anche il concedere nuova vita a qualcosa che prima non c'era in senso molto più lato il dio cristiano così come gli dei greci così come tanti dei di quasi tutte le religioni iniziano in qualche modo creando qualcosa non qualcuno prima creano il mondo e poi dopo lo fanno in qualche modo lo popolano con gli uomini questo è una radice abbastanza comuna un po' in tutte le religioni quindi l'atto generativo di qualcosa che prima non esisteva viene ancora prima del concepimento ed è l'elemento divino che in qualche modo è infuso nell'uomo non siamo capaci di troppi atti divini quasi niente un atto divino non è la conoscenza un atto divino non è la ricerca della conoscenza certe religioni addirittura incriminano l'eccessiva ricerca di conoscenza un atto divino magari atti divini non sono considerate altre cose invece considerate virtuose secondo un senso morale ma di sicuro la stipulazione di una relazione tra due persone fa venire fa creare in mezzo a loro due un ente vivo una terza persona che prende le sembianze di un essere vivente perché poi va per i fatti suoi e che quindi viene generata oggi mi piacerebbe coinvolgervi un po' in questo piccolo atto generativo no? un piccolo laboratorio in cui viene promossa una nuova vita chiaramente è qualcosa che già c'è per voi perché mi piacerebbe dare delle fattezze umane a una relazione che vi lega con una persona magari vi lega anche a un animale una relazione profonda e che prende vita nel momento in cui voi facendo riferimento allo stesso livello di concentrazione magari che avete usato sia per per l'intervento precedente al mio che per quello ancora prima ecco riusciste a visualizzare il la una relazione importante che avete nella vostra vita quindi mi piacerebbe anche che dopo averlo fatto qualcuno di voi potesse raccontarla questa relazione perché raccontare come se l'è visualizzata naturalmente che persona è diventata dovendo farla diventare una persona proprio per sentirla più viva per cominciarla a far vivere come se fosse una persona perché è importante visualizzare una relazione e fargli prendere vita invece che pensare a qualcosa che ha un mettente ha un destinatario ma non ha niente nel mezzo ma che vive soltanto delle vite di chi la intraprende la relazione invece di dargli una vita sua visto che le relazioni evolvono lo diciamo tutti se la relazione evolve è molto simile a una persona anche la persona evolve la relazione muore per tanti motivi può morire perché magari una delle due parti non c'è più o può morire semplicemente perché c'è uno strappo nella relazione può rimanere in stallo può rimanere ferma può rimanere chiusa in sé può diventare migliore può continuare ad essere sempre più produttiva sia per l'una che per l'altra parte ma in genere in genere si comporta proprio come una persona e spesso e volentieri non si è così cosciente di dare noi il nostro contributo a farla vivere come ci pare a volte va da sé è difficile pensare di poter cambiare una relazione dall'oggi al domani soltanto con il nostro intervento si dice serve l'intervento anche dell'altro sì serve anche una sinergia però serve anche che quella voglia evolvere che voglia andare da qualche parte lei affidandoci anche un pochino di più alla sua decisione anziché alla nostra alla sua mente razionale quindi che cosa succede se questa relazione diventa una persona ha dei bisogni prima di tutto come tutti noi vuole essere ascoltata io non so quanto vogliate essere ascoltati ma penso che sia insito nell'essere umano il voler essere ascoltati la relazione fa lo stesso vuole essere ascoltata e quando non la si ascolta magari comincia a diventare deflativa comincia a diventare ad avere dei problemi la relazione inascoltata a volte vuole andare anche sul lettino dello psicanalista la relazione ma si vuole sentire al centro però degli interessi dello psicanalista non vuole che lo psicanalista curi le persone che l'hanno fatta nascere non è che un figlio si può accontentare del fatto che i genitori vadano in analisi certo sarebbe un figlio fortunato però sarebbe un figlio molto fortunato ma a un certo punto vorrà andarci anche lui a farsi ascoltare un pochino vorrà prendere anche la sua dignità di esistere e vorrà esprimersi ecco se siete d'accordo oggi proviamo prima a immaginarla a immaginarla come una persona una relazione quindi prima a pensare mi piacerebbe che ognuno di voi adesso pensasse a una sua relazione importante potete anche le cose che vi chiedo potete immaginarle potete chiudere gli occhi e aspettare che gli elementi piano piano facciano la loro comparsa dentro di voi potete addirittura scriverle le cose che vi che vi vengono ma l'importante è che prendano lentamente corpo e l'importante è anche che il vostro atteggiamento sia un atteggiamento di epoché ovvero quella che i greci chiamavano epoché la sospensione del giudizio cioè questa persona può avere tutte le caratteristiche che volete può essere bella ma bisogna concedergli anche di essere brutta può essere una persona perfettamente sana ma può essere una persona anche molto malata e questo non ci deve frenare cioè cerchiamo di collegarci anche a quello che è il nostro inconscio il nostro tocco dell'anima nell'immaginarla questa relazione allora concentrandovi provate innanzitutto a pensare intensamente alla persona o all'animale con alla quale avete intrapreso questa relazione fondamentale della vostra vita quindi partiamo dal dal corpo nudo di questa relazione immaginiamo l'essere umano nudo e le sue caratteristiche quindi come sono i lineamenti del suo volto come come i capelli come ha il colore della pelle e anche come sono gli occhi la bocca il naso le orecchie e poi il volto nel suo complesso come si staglia davanti a voi è una persona alta oppure è una persona molto bassa magra grassa ha dei difetti fisici piano piano il suo corpo davanti a voi prende proprio delle sembianze precise è un corpo nudo ancora è un corpo che può essere maschile femminile da questo corpo nudo si parte e quando finalmente questa figura appare nuda davanti a voi con il maggior numero di dettagli possibile possiamo incominciare a vestirla possiamo incominciare a capire come le piace o gli piace vestire quali indumenti mette se si copre molto se si copre poco se non si copre affatto possiamo immaginare che questi vestiti e queste posture cambiano a seconda di come a questa persona fa piacere apparire o non apparire davanti agli altri e quindi si può vedere e si può immaginare ciò che questa persona ama fare quando non è solamente invisibile ma quando diventa visibile ancora di più andiamo ancora un po' più a fondo vediamo come parla questa persona e di cosa parla di cos'è che vuole parlare è una persona che vuole essere ascoltata o è una persona che ama stare in silenzio da sola oppure è una persona che cerca il contatto con tante altre persone è una persona bisognosa magari invece è una persona indipendente è una persona quindi ha degli elementi del sé ha degli elementi che l'aiutano a esprimersi nel mondo quali sono gli elementi con cui si esprime più volentieri si esprime parlando o si esprime scrivendo poesie oppure disegnando stando in silenzio facendo delle cose strane si comporta in modo naturale oppure è molto artificiosa nel comportarsi questa persona in qualche modo è venuta alla luce avete lentamente generato la persona che corrisponde alla relazione di riferimento quindi ora sarete quando avete finito la vostra visualizzazione sarete anche in grado di comprendere se questa persona vuole essere raccontata oppure no è già un punto di partenza di sicuro dal livello in cui questa persona ama essere raccontata potremmo vedere insieme delle caratteristiche che ha questa persona e di sicuro questo è un inizio perché nel momento in cui le relazioni si visualizzano quella visualizzazione che può tornare anche in sogno che può tornare anche nella realtà quotidiana a volte ci si può ripensare anzi vi invito a farlo nella visualizzazione che avete avuto e può aiutare nel momento in cui questa sia una relazione ancora in vigore nel comprenderla prima di agire su di lei nel caso in cui questa sia una relazione passata è ancora più importante perché c'è una caratteristica che hanno tutte le relazioni è quella di rimanere dentro di noi una volta che sono passate le persone diventano personaggi interiori quindi a maggior ragione è importante dare un peso alla relazione che c'è e che c'è stata che c'è